Nessuna manovra aggiuntiva da 8 miliardi, la legge di stabilità non ha bisogno di ritocchi e aggiustamenti e merita la promozione di Bruxelles. Il ministro dell'economia Saccomanni spiega la sua risposta al commissario europeo Liren, che venerdì aveva di fatto bocciato la finanziaria. L'Europa, dice, non ha tenuto conto di alcune misure già varate dal governo, a cominciare dal pagamento dei debiti arretrati della pubblica amministrazione. Poi c'è anche tutto il pacchetto di misure per ottenere quei 3 miliardi di investimenti riservati ai paesi considerati virtuosi nei conti. Le privatizzazioni, l'accessione di partecipazioni statali, il rientro dei capitali dall'estero e la rivalutazione delle quote di Banca Italia in mano agli istituti di credito. Infine il progetto di accelerare la spending review che dovrebbe concretizzarsi in tagli alla spesa. Ma su tutto il lavoro del governo e del ministro Saccomanni pesa l'incognita dello scenario politico completamente in movimento dopo la divisione sabato del PDL e con il PD alle prese con le primarie interne di dicembre. Oggi intanto la Commissione Bilancio del Senato riprenderà l'esame degli emendamenti alla legge di stabilità in testa, i temi caldi del cuneo fiscale, della sanatoria delle cartelle sattoriali, la vendita del demanio marittimo e soprattutto le tasse sulla casa. Entro giovedì il documento dovrebbe arrivare in aula a Palazzo Madama e in tempi rapidi il testo dovrebbe passare alla Camera. Il governo invece dovrebbe presentare in giornata un emendamento cruciale in tema di ripresa. La Cassa Depositi e Prestiti rileverà dalle banche i crediti alle piccole e medie imprese in modo da accorciare sensibilmente i tempi di concessione dei prestiti e trasferire il peso dei crediti più rischiosi alla garanzia pubblica. La Cassa Depositi e Prestiti